come va dottore dobbiamo farle una lastra al torace no di marmo ma di chi è questo bel nasino chi vi ha rubato il nasino dottore mi faccia l'esame della prostata e facciamola finita se i medici ti rispondessero come google dottore ho uno strano foruncolo che è mortale dottore ho una leggera alitosi da due settimane che è mortale dottore il bambino ha le orecchie calde è mortale dottore ho comprato un cd del più famoso cantante partenopeo un tale gigi è mortale mi spiace abbiamo perso sua moglie dottore non dica cazzate vedo i piedi che sputano dal letto il medico mi ha tolto insaccati alcol tabacco e droga sei stato dal medico in dogana lei è sessualmente attivo quando adesso sì in effetti mi sto toccando ma come ha fatto a vedere sotto il tavolo perfettamente no 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 Grazie a tutti.